Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Totally Reable Service Sì, sapete, non gliela Siamo, allora Per chi non si ricordasse che è Totally Reable Service È il gioco dello spru... schipidi do 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 Volevo che è andato un po' virale qualche tempo fa Ogni volta che io non pronuncio il suo nome Quindi non lo posso dire Ma avete già capito dalla voce che Ovviamente è Alexa Non ti ho camminato eh Eh, forse... Bene, eccoci qua, siamo zio pera Oh, usiamo il trucco dell'estintore che conosco io Whee Allora, adesso non mi ricordo bene i... Non lo porto da un mese... Da un po' di mesi E non mi ricordo i comandi Ma già stiamo andando male Non mi ricordavo Mi sa che l'hanno aggiornato, la Tiny Build Oh La Tiny Build è perfetta Oh, oh, oh No Mi ha vibrato il joystick Ecco perché si sente... Non so se lo sapete Ma io c'ho il... come si chiama Il controller della 360 Attaccato al PC E ogni volta che succede qualcosa trema Tipo, ogni volta che io cado Quindi sto robo trema Avete capito? C'ho due joystick collegati Ma è strano Ha trovato solamente quello lì che è legato Che è legato ma c'è tutto Stranissimo Va bene Adesso che sono lo schifo di... Lo vedi? Lo vedi? Ogni volta che io mi ferisco Sto joystick fa Guarda 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 Com'è su? Mi devo sbattere la testa Vabbè Ve lo faccio vedere appena atterro Cioè adesso Preparatemi Uno Due Tre Visto? Sto joystick Lo andrò stacco Un attimo Allora, il filo portato Io staccato in trapi Così non ci avevo più problemi Sì, sono impossibili Se sentite ancora rumori Non so come Mettico, ma cazzo Ha un volume bassissimo Non so perché, ma il mio uomo è rimasto stordito Però stai bene o sei morto? Morto No, mi sa che ho bugato il gioco E quindi adesso gli gira la testa all'infinito No Già il gioco si è bugato Perché hai messo le stelle Probabilmente lo skip Forse apro la camera Ma no, mi hanno appena rubato la telecamera Per quanto è che non faccio il video con la telecamera LOL Gli ha rubati un tizio che conosco benissimo Proprio benissimo La brodagna Mike Potevo andare peggio Potevo andare meglio Poteva andare peggio Poteva andare peggio Molto peggio Poteva andare molto peggioramente Molto, 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 molto peggioramente Ma... No, la parola esiste Che schifo Ogni volta che colpisce il tornado Sto qua rimane con le mutande fuori Oh, c'è un pesce secco Meme del giorno Surprise, bolla f*** Oh, oh, una nave Una petroliera, sono qui Bene, non abbiamo altra scelta che andare a ballare l'orange artist su Fortnite Andiamo ad esplorare l'isola e chiediamo a un mago se si può bloccare l'isola Così prendo... E vado in giro Che bello Tante volte non controllo schede Perché siamo... Oh, siamo arrivati... In un aeroporto No, 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 no No, no, rilò, no, 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 upatò Oh, bro, bro, bro Oh, no taciti No mi toccare Lora guarda Ti metto nei слушai Non mi tre affa No iso O, no lo faci Arrivo tornato, voglio fare un meme Bravo, bravo Sto andando nella collina Sto andando nella collina Bravo, bravo Surprise, motherfucker Sto volando Go, go, go Che bello però che la Tiny Bull È molto gentile e ha creato un gioco così In 4K Ciao, io sono il tizio, sì Mi state venendo in 4K Scherzo 2K Oh bro, oh come not touching Io ti tocco quando voglio essere il king della città Se sono di mutande non lo contare Hey, ciao fra Ciao fra, oh Non ti andate a tirare i pugni al boss della città Mister bombastic Bomba love and love stick Allora, il modo per tornare nella nostra terra è semplice Console, via Su, 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 su Hacking, hacking Sto hackerando la città Hackerò la città Respondi So easy Ecco perché è sempre meglio avere un terminale di torno E' vivo Non esplodi vero? Non esplodi Come proprio lo immaginavo Esplode Oh pesce secco Pesce secco Pesce secco Surprise bombastic Fuck Addio Adesso in acqua Wee Ah che bravi A momenti mi addormento Ma è prestissimo Io vado a dormire a luna e qua sono già Sono già le 21 Sono le 9 C'ho ancora Tut 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 Tre ore Sono stupido in matematica No c'ho quattro ore Quattro Che cosa Ma i video mi permettono di fare fino alle 10 Sono le 11 e 33 Quindi c'ho pochissimo Tre Eh ma che le 11 e le 9 UAH Vola 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 Stupido Ho imparato a volare due giorni fa Di sicuro non fare uno schianto contro qualcosa A meno che che la Ecco c'è lo script sbagliato Ottimo 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 C'è il carburante Quindi c'è lo script errato Lo sapevo che la tiny build era così cattiva Da mettere uno script Che permetteva il carburante Allora la prima cosa La prima cosa è che non Che è impossibile volare con sto robo Guarda Devo tenere premuto il tasto destro E sinistro Oppure vengo distrutto Su dai fai un atterraggio come il Boeing 747 Dai un atterraggio da Boeing Non so ancora come sto qua è ancora vivo dopo 250 omicidi Oggi vi dimostro come essere non investiti da un'auto Cercare un'auto Eeeh Siamo soli Non ci sono auto Quindi l'auto sono io No devo aspettare veramente un'auto Perché le auto di sto gioco Ehi Hanno una funzionalità speciale Ma non me lo lasciano fare perché gli sviluppatori di sto gioco sono veramente grandi E mi fanno rimanere solo Vabbè andiamoci da questa città Sono il re della città Come Tommy Verchette Sono Tommy Verchette Il Bro di Vice City Oh cos'è spazzatura Faccio Me la mangio Questo qua si bagna pure la spazzatura Il cannone È il cannone Cannone di anima speciale Ragazzi Ditto addio alla galassia Perché Ryan Ryan sì Sta per volarci Suu No No Non in acquo La spiegazione è concreta perché Ryan odia il cannone Sono Spider-Man che mi arrampico sulle macchine No non sono un falso Lo vedete sono Spider-Man Mi arrampico sulle auto E le rubo Addio Ha 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 Ah ma Ma allora non mi serve spingere il mouse Posso semplicemente spingere Ah 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 Ecco perché mi hanno dato la start card Perché sta qua resiste Resiste Meme del giorno Can you fix the joke? Can you fix the broken? 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 Preparatevi per lo schianto Uip E' andato E' andato meglio Io però finchè non tengo quella leva Sono un essere inutile Che non sa fare niente Non si vede se si va fuori strada Dai Potevo andare di peggio Dicevo poteva andare molto peggio Si poteva andare molto peggio Molto ma molto 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 peggio Buongiorno Buongiorno pescheria Se va Poteva andare dagli alieni Che così mi da pure il badge di steam No vabbè la macchina con l'over Dai la voglio guidare Bru c'ha anche l'istintore come il motore Lo voglio vedere Oh ho capito che cos'è il boost Oh No ho trovato di stare anche segreto nel gioco Vado lì e mi trovo una gif di ricroll Ma che troll Addio Me ne vado con la mia betty Vero Natasha Ehh Natascia Vero Natasha Andiamo Natasha Andiamo Natasha Andiamo Natasha Uuua Ehh Sono incapace Povero gabbiano Ha perduto la volante E' come uno stupido E' come uno stupido Ma così come un bro Oh 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 Ho scoperto come andare nella stazione internazionale Deeeh bla 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 degli alieni Questo è un raggio alieno E appunto Sempre E' curioso Anche I uno stupido Odol quantico no 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 un macchinario ho visto che ti distruggia la terra così poco dai rana aumentiamo la forza del super saiyan ciao 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 che schifo a posto dove è che sono qualche giorno fa ho ordinato insalata di peco non ho idea di cosa sia schifo da cacca brutto bacco da cacca tico antico un dolore che appena finisco sto video magari per un dono neighbor hello neighbor come in your house and kill you is so stronger you are so low he wants to kill you but you yet you hit him with a crowbar then you hit and you win the base man sempre gli è venuto in mente qualcosa vabbè il tipo farà su dai voglio volare helicopter helicopter vi presento il vola mani armate helicopter 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 la parola sa in sto gioco mi ricordo che c'era un tanto per fare le scorreggie cosa faceva pfff si va il fumo vabbè me lo teno vabbè me lo teno nata ti ho un ombrella in testa brutto pan bang bang ecco ti ho un ombrella in testa no no il poppins ha perso l'ombrella aspetta ma esiste esiste è ancora sott'acqua lo vedete quella sagoma nera è ancora sott'acqua grazie al 4k si vede oh apri di più sto ponte che io voglio andarmene a casa che presto concludiamo sto video non vediamo mai più oh se dai mancano 10 minuti posso concludere questo video e mi piglio il hello neighbor hello neighbor enter in your house he kills you vabbè questo gioco qua è fatto dalla stessa azienda ma lo neighbor 2 io direi che è un po' uno schifo cioè era più bello quello vecchio che aveva collaborazione perchè l'editore era diverso ma il fonda no lo sviluppatore era diverso l'editore era tiny bulls ma lo sviluppatore era diverso e faceva la grafica più bella adesso invece lo sviluppatore era solamente tiny bulls senza fare la collaborazione e la grafica uscita tutta è diversa ma almeno a 4k ma la maggior parte della gente dice che lo neighbor fa schifo poichè è cambiata la grafica e quella grafica lì è abituale ormai per lo neighbor ed era molto bello questa è la storia di come lo neighbor è diventato uno schifo per la maggior parte dei suoi vecchi player e se cosa è successa con me però sono affezionato ai vecchi e lo neighbor ma chi sa fare raga ho comprato un cannon dove porto i kebabari kebabari e non si avete preso i panini rrrr non si rrrr ok non si andiamo che babari andiamo al bar a comprare che babb che babb ma abbiamo già 200 che babbari che ci saranno oh no mi sono venuto 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 troppo no sto sporca vabbè lasciamo stare oh ecco come guida una persona ubriaca So dai andiamo Sto camion è rotto Che babà è uscito da Ammagine Prene ho trovato una gru O qualsiasi cosa O come si chiama non lo so Che vi trasporterà in Cina Sì Andiamo in Cina Oh voglio rubare il treno Voglio rubare il treno Ah Ho rubato il treno L'ho rubato No mi ha fottuto a me piuttosto No Se ne sta scappando Non te lo lascerò far scappare Inseguimento epico Aspettare la parte due 200.000 anni dopo Continuo a seguirlo Ma quel treno non si ferma E' troppo veloce Quanto un super Un super Super rettile E' velocesimo Quanto Sonic per 155.997 1997.000 volte Perché io sono Non so Doppio E Bla 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 Ecco come ho percorso Tutta la mappa E' il secondo giro Sì ho fatto tutto Ho fatto tutto Out Off camera Per andare in sto treno Ho fatto tutto il giro Della mappa Il treno mi ha fatto perdere Mezz'ora Guarda Non lo piglio manco più Eh Bene Mi sa che potrei concludere Questo Ma Prima Ultima cosa Si festeggia Con la magia La magia Che mi ha costretto A prendere questo Stupido gioco Si può trovare online A due centesimi Di gratis Ma Mi se ne frega Io lo prendo Al costo originale Di 140 euro Scherzo Costa di meno Ma non mi ricordo L'ho comprato nel 2000 Non mi ricordo Da quando Funziona veramente La funzione Mary Poppins Però Vola Il soggetto Vola Ecco perché Distroio gli ombrello Su questo gioco Perché si può Volare Si può Volare Si può Volare E fare schifo Quanto si vuole C'è un bug Che mi permette Di volare Con l'ombrello Helicopter Helicopter Vabbè L'ultima cosa Che volevo fare Era farmi In giro Con l'estintore In drip E poi Finire che Papapapà Papapapà Che strudiamo Unterstützung Vabbè Andiamo Wiiii Helicopter Helicopter E ciao ragazzi Ssss Vabbè Questo è tutto Ciao ragazzi Ciao fra